Via! Buongiorno signori giurati, sono Rovida Martina dell'Istituto Alberghiero Caterina De Medici, come ho detto prima ho quasi 20 anni e sto studiando caffetteria con molta passione dall'incirca la terza superiore dell'alberghiero. Quest'acqua che vi sto servendo è Maniva con pH Alcalino 8 che ha un residuo molto basso ed è un pH neutro. E servirà per preparare il vostro palato alla degustazione delle mie preparazioni. Il caffè che ho scelto di portarvi è come un'origine trismoca Colombia proveniente da Huila nella zona caffetera della Colombia. È un caffè deciso ed elegante all'inizio potrete percepire un gusto di confettura di albicocca per poi arrivare a delle note di cacao fondente e cioccolato. Ora faccio con la preparazione dei miei espressi. Nell'attesa che Martina comincia i suoi espressi volevo per correttezza così farvi vedere anche quelle che sono le schede sensoriali che i giudici sono chiamati a valutare. Sono schede belle piene, nel senso si valutano parecchie cose, l'aspetto visivo, l'aspetto olfattivo, l'aspetto gustativo dell'espresso, la corrispondenza poi tra spiegazione e riscontro. Perché se lei ci racconta una cosa, poi quelli che bevono un'altra, ovviamente capite bene, c'è qualcosa che non quadra. E poi vi andrò a raccontare invece quello che succede per la valutazione del cappuccino. È un regolamento molto molto importante quello che viene proposto. Ma prego a te Martina. Buona degustazione. Grazie a tutti. Challenge 2018. Non so voi ma io avrei voglia di bermi un caffè. Mi è venuta voglia. Facciamocelo fare il caffè. Magari dopo la prova che così perlomeno diamo tutta l'attenzione ovviamente alla nostra Martina che vedo bella determinata. Bello che sia così, vent'anni con una gran voglia di fare. Ma vogliamo anche fargli un applauso magari. Amici, parenti. Mi sta sulle valle? No, ovviamente. No, non si sa mai. Buona degustazione. Ora procedo con la preparazione dei miei cappucci. velocissima, sono trascorsi tre minuti e otto secondi in questo istante. Ci sono parenti di Martina? Alzano la mano. La signora? La sorella, lei? No, sto scherzando. Ovviamente si vede che è la mamma, no? La nonna, dai, sto scherzando. Mi permetto anche di scherzare un attimo, altrimenti qui non ci passa più in attesa che lei ci prepari ovviamente gli espressi. Guarda i nostri giurati che bevono giustamente anche un po' d'acqua. Sono un po' emozionato del vedervi da quella parte perché ho fatto il giurato anch'io per quattro anni. Ad essere qua invece a raccontare e non bere tutti questi caffè mi manca anche un pochino. Eh sì. Quindi quando vuoi parlare tu puoi parlare tranquillamente. Sì. E te quiero me Para resolverme Dime donde Por favor risponde Contestrame Entiende che io sigo estragnando te A cada istante En todo momento Entiende che io sigo estragnando te Approfitterei nel frattempo anche per ringraziare la regia musicale, l'audio e il video che ci permette anche di Vedere nel dettaglio quello che la concorrente e i concorrenti vanno a fare È fondamentale perché spesso i protagonisti sono sul palco, quelli che lavorano dietro difficilmente Vengono ricordati e a me invece piace farlo Ringraziando quindi la regia di questa giornata che sarà anche la regia dei prossimi due giorni Vi ricordo che tutte le fasi, oggi sono sei concorrenti in gara, domani altri sei I migliori sei chiaramente andranno in finale poi lunedì L'orario di ritrovo è sempre le 14, dalle 14 alle 16 all'incirca Minuto più, minuto meno Ma dipende tutto chiaramente dal presentatore che è sempre in ritardo e quindi è normale che sia così Allora per chi vuole dirlo a casa, quelli che sono qua chiaramente inutili che vadano su Facebook a vedere la diretta su Facebook Che se no sono dei folli però c'è chi lo fa e quindi è meglio dirlo prima Però è possibile seguirla diretta quindi sul canale Facebook Trismoca Una pagina sempre aggiornatissima e quindi se volete dirlo a casa eventualmente c'è questa possibilità per seguire la nostra sfida Buona degustazione Sono trascorsi sei minuti in questo istante della prova di Martina Buona degustazione Come già ricordavo mentre Martina prosegue con La propria prova il concorrente successivo già sta preparando la propria postazione di lavoro Sempre 15 minuti di tempo a disposizione Io approfitterei di questi momenti anche per interagire con i nostri giurati Abbiamo colui che ormai è diventato parte dell'arredamento del Trismoca Challenge Che è il nostro Germano Bana, Vini e Cucina Bresciana, uno che insomma di cucina, di vini ma anche di caffè se ne intende no? Possiamo dirlo Germano? Penso di sì ma comunque è sempre un vero piacere essere qui presenti in giuria Ancora più piacere quest'anno di valutare quelli che sono dei giovani e quindi di conseguenza un aiuto sempre in più a far sì che Nei bar possiamo quantomeno degustare dei buoni espressi e questo secondo me è una delle cose più importanti ed è un vantaggio che regala a noi Trismoca consumatori Assolutamente sì, siamo in casa Trismoca e Paolo Berti, ovvio che ne parliamo bene ma lo facciamo con sentimento Ed è così per davvero perché insomma è una famiglia che conosciamo da tempo Paolo con la sua squadra riesce a essere sempre molto lungimirante a leggere delle situazioni Che su cui altri devo essere sincero arrivano dopo e questo va assolutamente a premio dell'intuizione di Paolo Berti Della sua squadra e del team che crede sempre fortemente in lui Intanto come siamo messi con il tempo? 8 minuti e 20 secondi per la nostra concorrente Martina Rovida Quasi ventenne di Villanova Surclisi, studentessa della Caterina De Medici di Gardona Riviera Considera il caffè un vizio prediletto, un piacere che scorre lento come le emozioni Davvero molto bella questa frase che racconta questo amore nato tre anni fa come ci diceva la nostra Martina per il caffè Il cappuccino sta per essere servito anche agli ultimi giudici In questo caso il primo ad essere servito sarà il nostro Germano Banna che abbiamo sentito pochi istanti fa Giustamente l'attenzione ai particolari, versare l'acqua con continuità è ovviamente uno dei compiti di un barista eccellente E ovviamente la nostra Martina dimostra interesse nel farlo, l'attenzione nel farlo Con un cogliato di abilità, bastano solo un par di cova per conoscerti l'antimità E tu mamma e come dices che non ti accuerdas, come mi corpo te calienta Vendimelo in la cara e non mientas, dejemos de bugar E tu mamma e come dices che non ti accuerdas, come mi corpo te calienta Vendimelo in la cara e non mientas, dejemos de bugar Ed eccola quindi a cambiare il banco di lavoro con la bevanda La bevanda creativa che poi immagino andrà a presentarci e a raccontarci la nostra Martina Vedi che sulla scelta musicale io che faccio radio sono abbastanza contento, mi voglio anche di muovermi Aiuto nel muovermi, meglio che non lo faccia caro Michael perché sennò qui ciao, scappano tutti Sono un curioso di natura quindi mi avvicino anch'io al banco di lavoro Per seguire la preparazione della bevanda Della nostra super giovane Martina Rovida Noto che il pubblico però è un po' avido di applausi Vogliamo fare un po' di carica a questi giovani che si mettono in gioco Grazie al cimitero di Montichiari ho sentito più casino prima Però vabbè lasciamo stare, possiamo dare di più come diceva la canzone Vabbè comunque recuperiamo poi Anche perché sembra facile dire ma sì sono capaci anch'io, sono capaci tutti proprio no Qui c'è settimane, mesi di lavoro Io ho imparato questa cosa come ripeto in questi anni che mi sono avvicinato a Trismoca Di capire realmente quanto lavoro e impegno ci sia Ed è ancora più difficile quando poi sei giovani distratti da mille cose La bevanda che sono andata a preparare contiene agguardiente, liquore alla vaniglia E un cucchiaino di cannella accompagnato ovviamente con il nostro espresso Colombia Buona degustazione Sono curioso anche di assaggiarla questa bevanda Peccato che a me questo giro non mi tocca Ecco la nostra Elena Benzoni e Lara Lonati rispettivamente foodblogger Poi andremo a citare un po' di collaborazioni che vedono impegnata la nostra Elena E tra invece Lara Lonati e del gruppo Netweek Tantissime testate di informazione locale e nascolo La preparazione si divide in due, due giudici alla volta Che verranno... Io ricordo, cara Martina, che siamo a 13 minuti e 10 secondi Cerco di farvi da orologio se serve Anche perché se no sono qua a fare qualche cosa Cioè, ditemi voi, eh Che ti importa? Eh De mala Dime qual fu il mio errore Se il mio unico delito solo fu amarti Oggi sono il perdettore E mi ha rubato il trucco per innamorarti E dimmi che mi amas Non che sia mentira Non posso negartelo se non mi stai matando Prima vi ho raccontato brevemente delle schede di valutazione Le schede sensoriali dei nostri giudici Abbiamo velocemente ricordato quali sono gli aspetti legati alla valutazione dell'espresso Poi come sempre mi sono perso via un attimo E non vi ho ricordato invece quali erano le valutazioni relative al cappuccino Anche in questo caso molto importante l'aspetto visivo, l'aspetto gustativo E ovviamente la spiegazione e il riscontro Poi c'è la bevanda personalizzata che sta preparando per i nostri secondi giudici Appunto la concorrente In questo caso si andrà a valutare da 0 a 10 la creatività La sinergia con il caffè, molto importante L'aspetto gustativo, la corrispondenza tra spiegazione e riscontro E poi c'è la valutazione finale Altrettanto importante, le facevo riferimento prima Quando dicevo appunto la valutazione del barista nel suo complesso Intanto Martina mancano 20 secondi Forza Martina Ricordo che poi nella valutazione generale Michael ci spiegherà Ovviamente se si va in overtime C'è una piccola penalizzazione da parte del concorrente Dicevo appunto ordine e attenzione ai dettagli Dai Martina che ce la fai 15 minuti in questo istante Vai Martina Siamo concentrati e con te E su di te Quindi ecco che Chiara Corti e Germano Bana possono Buona degustazione Stop al tempo Stop al tempo 15 minuti e 15 secondi Dai su bell'applauso E facciamolo Bell'applauso Accidentaccio No Oh 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 Grazie a tutti